Eccoci rientrati in studio. Vi è piaciuto Nicola Fasano? Ora sta per arrivare uno dei momenti più attesi, perché nel prossimo video i protagonisti sarete proprio voi con i vostri mash-up. E tra tutti quelli che sono arrivati alla casella In The House, chiocciola matchmusic.it, oggi abbiamo scelto il lavoro degli House Screamers. Loro sono un duo del Ticino, formato da Greg MC Cooper e Tom Alemanno. Il loro lavoro è una miscela tra Across The Light degli Swanky Tunes e la fantastica lead vocal di Little Louie Vega, featuring Julie McKnight, Diamond Life. Tutto questo diventa Swanky Tunes vs Julie McKnight, Across The Diamond Light. The House Screamers mash-up. Ticino tv-al Exportare.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.it.com. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.